Buon anno amici Allora Va bene Delta Tournament Cosa succede ragazzi? Per questa settimana cambieranno temporaneamente i nostri programmi Quindi niente più Mirror Lady Niente più a scuola con il TCS Niente più quello del venerdì Esatto Sarà dato interamente spazio a questo torneo Contesto Aos e Aragorn si sono affrontati in 5 match all'ultimo sangue E questo è quello decisivo, il quinto Ork Aragorn gioca a Terra Ma essendo una persona veramente pessima e squallida Ha deciso nel quarto game di six pullare il giocatore Protoss Battendolo Non pago Ti intendo utilizzare questa volta La meschina tattica Aragorn è un personaggio squallido E gli auguro ogni mano Io invece gli voglio bene e spero che vinca lui Ma è squallidissimo comunque Ha renegato la sua rasta i Terran Magari invece gioca a Zerg Ha provato Te che ne sai che lui non è uno Zerg in realtà Perché ho visto i primi tre match No no intendo nella vita vera Magari prima rinnegava la sua razza giocando Terra Hai perfettamente ragione Lo prendi anche per cui Ma quanto lo odio Pressione psicologica È così che si fa Però proprio come hai ricordato prima Visto che già nel match precedente Aveva fatto un seven pull Era stato battuto perché non aveva fatto la forgia Quindi questa volta diciamo Ha messo le mani avanti Allora la volta prima Diciamo che Aos ha avuto abbastanza sfortuna Perché si era chiuso abbastanza bene Con tutti i kiss pull Però ha sbagliato nel posizionamento Dato Zelota Mettendolo dentro la base Invece che lasciarlo fuori Spero che questa volta abbia più fortuna E anche se a quanto pare Ha scelto di chiudersi tramite i cannoni Cosa che posso condividere tranquillamente Io vorrei ricordare anche Che questo primo match Che vi facciamo vedere oggi Fa parte di una diversa appunto Serie di incontri Ed in particolare Questo era la branca riguardante Le leghe bronzo-silver Quindi non c'è white line Non c'è no cinema Dei giocatori in attesa di sbocciare Questa in particolare È proprio la finale Del best of five Che hanno fatto Che è stato proprio fra Arakorn e Aos Esatto Per il Dettaturna Mentre per bronzo e argento Adesso attenzione Chi vincerà? Di sicuro quelli non entrano Questo 7-pun Non avrà molto successo Quella pessima persona di Aragorn Se ne torna dritto in base Con la coda fra le gambe Sotto nel mio pessima persona Allora Aos Si è chiuso molto bene Forse ha un po' overreagito Con i cannoni Sì uno bastardo Non era più che sufficiente Però si è anche detto Voglio essersi co di portarla a casa Perché Aragorn non è Zerg Quindi se io riesco a conterrare Il suo 6-pull 7-pull Quello che è Magari non sa come andare avanti Mi garantisco un bel vantaggio Infatti Infatti due gas Senza avere neanche un po' di droni La reazione non è proprio Delle migliori Come possiamo vedere Buffone Invece di buttarsi Invece di buttarsi istantaneamente Sul dronaggio pesante Decide di sprecare Quei pochi droni Che aveva Per ulteriori Cioè con Per sprecare ulteriori droni Quindi non è stata la mossa giusta Quando Purtroppo come Vi avevamo fatto vedere NTCS 74 Quando una persona Fa uno Zerg Fa un 6-7-8 Oppure 9-1 Comunque un all-in iniziale È difficile riprendersi Continua a prenderlo Potrebbe farti comodo Però per il resto Per ora È perfetto Mentre io vorrei dirti Che tu non hai Assolutamente Il buon numero di droni Dovresti averne Almeno il triplo E perciò Non so Purtroppo Come già detto altre volte Infatti vedi che sta anche Iniziando a storare Molto Vespene Che non gli serve Assolutamente a niente In questo momento Che pessima persona A meno che non voglia fare Qualcosa di strano Tipo le Non so Ah aspetta Vuol fare le ultri Vuol fare la ultra mega build Imbrattibile Di TCS Ma sì ma Non vuole fare i battle cruiser No e poi Non l'avevamo ancora spiegata Quindi cronologicamente parlando Noi non so ancora utilizzarla Quindi siamo stati noi A copiare da lui Io così a naso Visto la quantità di gas Da lui ricercata Per me vuole andare di muta E invece per quanto riguarda Il Protoss È una partenza standard È leggermente rallentato Per via Dei canoni iniziali Per canterare Il viscidissimo Sixpool Si sta pian piano assestando Sia economicamente Che in fatto di esercito Sono molto curioso Di vedere la scelta Che House attuerà Per fare a pezzi Questo pessimo personaggio Aspettila Che cavolo È la pressione Della partita finale Pessimo personaggio Basta No Dici così solo Perché è geloso Perché è geloso Perché sarebbe stato battuto Anche lui sicuramente Da un 7pool Decisamente Tanto vorrei Vorrei veramente notare È una build piuttosto particolare Perché questa camera evolutiva Forse l'aveva fatta in risposta No Lui gli ha detto Carri E lui ci ha creduto E si è fatto veramente Infatti si sta facendo Un imballatore Un scorecrawler Certo che Conto in Mascarri Un imballatore Non esattamente Cioè Un imballatore Non è esattamente Il migliore da fare Qui Diciamo che stai accumulando Un po' Potevi usare Questo cos'è È un 3gate robo Meryl vorrei dare un'occhiata A cosa sa House dello Z Niente Ok House Lui invece Si Quello di prima Quindi Allora House Un piccolo appunto Molto importante Te hai scelto di andare Di fatti a fabbrica robotica Forse per l'observer E poi magari per switchare Immortali o Colossi Per porre delle blatte Chi lo sa È sbagliato Al massimo Devi assolutamente Avere una minima idea Di quello che ti aspetta Tu al momento Puoi ritrovarti addosso Anche le mutalische E aver Intrappreso un'abili Che non ti aspetta Io se lui è un giocatore Che ha un attimo Una cogna di quello che fa Sa che in questo momento È veramente difficile Che lui abbia le mutalische Come vediamo anche Dalli rifornimenti Siamo 35-24 Hai ragione Ma prima di andare A fabbrica robotica Devi aspettare un attimo Avere una minima idea Di quello che ti aspetta E sinceramente Molti inesperti Tendono ad utilizzare Le muta con 3 protos Proprio per il loro Fast rush E tutto il resto Però magari lui Si era chiuso dentro da solo E faceva fatica a uscire Ha preferito A lasciare un observer E via Uffare i colossi Contro gli zerg Però se andava di muta Sarebbe stato brutalmente massacrato Adesso andrà a vedere E sarà tranquillo E dirà per fortuna Esatto Il problema è che Sì questo zerg Come dici te È sicuramente inesperto Visto che non è la sua razza È una pessima persona È anche col suo onore Però Questo è una cosa Che chiunque voglia provare A giocare a zerg Deve sempre ricordarsi Infatti guarda Ho visto proprio adesso Il click Da parte di House Dell'Observer Per vedere quanto era messa bene L'espansione Appunto Aspettandosi Non possono giocare A una base A meno che Poi oltretutto Perché i baning hanno In un nuovo Sì esatto Che vuole sfondare Però A questo momento I baning Già Lui ha meno unità E le unità che ha Sono unità suicida Quindi non vorrei Nuda Quando qui scouterà Che ci saranno Solo degli Degrees Ho metto che ballano Dove sono le tue unità Che ballano Ecco adesso A House Tirano Spero Di salivo dicendo Perfetto Ho fatto la build giusta Ma l'hai fatta a caso Ti è andata bene Però la prossima volta Teni d'occhio Un attimo Quello che ti aspetta Soprattutto contro uno Zerg Te lo ricordo Sono esseri viscidi Dobbiamo fare una panoramica Sugli eserciti Che si stanno per scontrare Sette stalker E un colosso in uscita Contro la bellezza di 27 Diciamo poco Ma non molto Ma come se Tra l'altro Probabilmente sì Come dicevi giustamente Tu prima Quei baning Servono Sicuramente Li avrà voluti fare Per sfondare questo pilone Però Lui l'aveva scautato Prima E ragazzi Cioè Qui non è impensabile Di entrare con così pochi baning Soprattutto dopo un all-in E soprattutto con la metà dei baning Che non arriveranno in fondo Esatto La metà E guai Ha tirato giù un pilone Ci sta Via Quando fate questa cosa Cari amici Guarda Gli ha aperto la breccia Per poter uscire Lo sto a ringraziare Il tank ci sterbe tutto Adesso la pessima persona È veramente in grande difficoltà Per svariati motivi E soprattutto Over reagirà Producendo solo degli Zerg Appunto Hai visto i colossi Sai che praticamente hai perso A questo punto Puoi provare una cosa disperata Del tipo Butta giù Un pinnacolo E prova a uscire Qualcunitario Perché in questo momento Potrebbe passare Ma anche Ha più stalker Comunque Infatti ormai La situazione è disperata Non può proprio più fare niente Perché appunto Ha giocato a una base Per troppo tempo Magari sta aspettando Che si refresh No cosa sta aspettando Sta dando le lanci termiche Sta aspettando magari Di avere qualche altro Zelota Per tankare gli Zergling Allora al momento Ci sono due errori di base Tu hai l'observer Li Sai cos'ha E sai che il tuo esercito Bastava affriggere tutti Quegli Zergling Magari voleva un pochino più Vedi vedi Sta aspettando gli Zelota Stai ragionando Però si ha preso un piccolo rischio Forse è che ormai è sicuro di vincere La prossima volta House ricordati anche di portarti Una sonda Per fare un pilone E poter comunque Garantirti un continuo E costante A flusso di unità Per il resto Hai conterato la partita Tu hai conterato La pessima persona In maniera eccellente Ho tenuto un protos Con il doppio dei rifornimenti Blue Zerg Non si è mai visto E ricordati di aprire Quel portale Che è ancora chiuso Inoltre comunque Hai anche un eccesso Di minerali Che sicuramente Potevi usare In qualche altra maniera L'espansione L'espansione Questo è il momento Esatto In realtà Era già da un bel pezzo Come ha detto prima Un troll Non avevi Perché ne ha fatto un'altra Non avevi nessuna necessità Di ritirarti Potevi stravincere Volevi essere La finale Finalissima Proprio L'ultimo match Ma ma ha ragione Una pessima Personaggia Che va unidata Costantemente Buona Te avresti solo perso Esatto Avresti perso Con tu Sevenpull Sicuramente Sono certo E quindi Adesso siamo In una fase Di pace Prima della tempesta Sì vediamo Che lo Zerg Ha molto gas Che potrà usare Per fare gli Zergling Quindi adesso Che sono usciti Gli Zio Loti Sono addirittura Potenziati Sì Sta aspettando Per andare La rossa ha deciso Di prenderci La sua doverosa Marcia trionfale Verso la conquista Del titolo Sta ricercando Trombette Per risuono Trombette Esatto E lui invece Non sta facendo niente Sta ricercando Il nasetto rosso Se ci fai caso Attenzione Qui abbiamo Un bass trade No Bass rush Scusate Che ci sono le torrette Sì no Siamo in una situazione In cui il primo Che solitamente vince Distrugge la base Dell'altro Vince Non penso In andare così Però non credo Uno che ha Mass Duggering Fa fatica No no Intendo la situazione Di base rush È questa Però non credo Che quegli zergling Potranno mai provare Ad entrare Da di qui Soprattutto Però Insà che Aus Da lì ci entra Ben volentieri Cioè renditi conto Che adesso Gli zergling Verranno incastrati Nella rampa Perché lui li richiamerà Probabilmente Gli zerg di solito Ritornano C'ha provato C'è anche un colosso Stava meglio prima Ciao Scati in old position Ottima manovra Da parte di Aus Infatti vedi È un giocatore protos Un po' distruttito Nella fase di scouting Ma che ha tutti Fondamentali giusti Per un passaggio Di categoria E non perché I protos Sono facili da giocare Appunto Non sono assolutamente Facili da giocare Quindi complimenti ad Aus E tu dici così Non perché giochi a protos No 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 Se fosse un bravo giocatore Zerg Glielo diresti lo stesso Esatto Ovviamente sì Io sono la più imparziale Del mondo E vediamo come gli zergli Vengono sciolti Buffoni 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 Basta 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 Bravo Aus Cacchio Ma che pessima persona Hai un po' In Aus Hai stato anche BM Dandogli il GG Prematuro Per fare in modo Che l'invasse Lo speffeggiato Tutti a casa Leale Tutti a casa No Una vittoria meritata Da parte quindi Di Aus Che si porta Che si porta a casa Quindi la partita finale Si porta a casa La vittoria Della Lega Bronzo E Silver Ha giocato bene L'avversario Ha giocato Magari Se avessi giocato terra Eh capito Per quello Va detto La prossima persona Ha giocato questa partita In maniera depotenziata Lui è un giocatore Terran Spazzo mi ha fatto un dispetto A me perché Se giocava Terran Potevo dire qualcosa in più Esatto Lui è un giocatore Terran Ha tantissime vittorie da Terran Tipo non so mai quante Ma tantissime Quindi anche un giocatore Molto esperto Perché guardando Gli altri repre Abbiamo visto che lui aveva Il ritratto No il ritratto Aveva Il simbolino Il simbolino da mille partite Quindi comunque Quindi vuol dire che Ha giocato È un giocatore molto esperto Con i Terran E ovviamente Il ritratto Adesso usare una razza Orrenda come gli Zerg Si è trovato Ovviamente a disagio Il risultato Mi riempie d'orgoglio E di affetto Verso Aus Perché Ogni persona Che dice di vincere Faccimente Che spulmerete di perdere così Ma andrà 10.000 volte Quindi Aus Complimenti Fortuna che Che hai vinto Diciamo così Per non dire di peggio Va bene ragazzi Allora Scusa un'altra cosa Aus È membro del clan Death Italian War Quindi complimenti a lui Ma anche al suo clan Che lo ha formato E lo sta rendendo Un giocatore migliore Quindi un saluto Anche a tutti voi Ragazzi Saluto ai nostri fan Death Italian War Complimenti Aus Ci speriamo che Questo video vi sia piaciuto Rimanete sintonizzati Perché molto a breve Molto molto a breve Vi daremo anche ovviamente Le altre partite Delle finali Del Delta Tournament E delle leghe superiori E detto questo Ci sentiamo Alla prossima Ciao 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 Ciao